vi presentiamo questa nuova linea della jade a chic abbiamo un coordinato composto da una canotta con redellina sottile è uno slip molto molto carino confortevole in quanto in cotone elasticizzato e anche sexy perché a questo slip con questo lavoro di micro rete e pizzo floreale poi abbiamo una serie di parti basse abbiamo lo slip il brasiliano e lo slip midi un po più alto sulla vita e sul fianco questi tre modelli di parti basse sono tranquillamente abbinabili a questo bellissimo balconcino in cotone elasticizzato quindi davvero molto confortevole con ferretto abbellito da questo un pizzo molto elegante le bredelline sono regolabili e abbiamo anche tre posizioni per la circonferenza trovate tutti questi articoli sul nostro sito intimorosa.com vi ricordo che le quantità sono limitate a presto ciao